L'idea di un collegamento ferroviario Pesaro-Fano-Fossombrono-Urbino-Montecchio-Pesaro di una metropolitana leggera, fuoriterra, è importante, affascinante e soprattutto utile. Utile ai cittadini per tutelare meglio la salute, riducendo fortemente l'inquinamento atmosferico, riducendo fortemente gli incidenti stradali, molti dei quali addirittura anche mortali. Quindi diciamo lo studio di fattibilità già approvata al Senato fino ad Urbino va esteso, Montecchio-Pesaro, direi che le due vallate del Metauro e del Foglia hanno un buon 80% del sistema economico e produttivo dell'intero territorio, circa 30-40 mila imprese. Ho visto tanto consenso attorno a quest'idea di una metropolitana leggera, Pesaro-Fano-Fossombrono-Urbino-Montecchio-Pesaro, circa un centinaio di chilometri in cui c'è un sistema di viabilità ordinaria, magari perché no un sistema ciclopedonale e la ferrovia sarebbe proprio il massimo.